Ben arrivati, io sono Arduino Schenato, questo è il canale di Yearforex e oggi invece del solito tutorial che ormai da qualche settimana faccio, praticamente ogni sabato, vorrei fare una piccola pillola di trading dove andare a parlare di tre elementi, diciamo di tre regoline, di tre cose importanti che un po' tutti i trader diciamo devono tener conto o comunque devono gestire e quindi essere molto attenti a queste cose per cercare ovviamente di essere più efficaci nella propria attività, migliorare il proprio trading. La prima cosa da fare è quella di ignorare giudizi e commenti di altre persone, di altri trader, di guru eccetera eccetera. Cioè oggi siamo in un mondo pieno di informazioni, pieno di social dove nel mondo del trading abbiamo veramente un sacco di specialisti o presunti tali, tutti hanno la loro strategia, tutti hanno le loro migliori tecniche. E' ovvio però che anche se è bello creare un gruppo, io personalmente negli anni ho creato il gruppo del Mentorship Platinum e quindi sicuramente ci piace creare gruppo, facciamo degli eventi dal vivo dove creiamo gruppo, però poi bisogna sapere che il trading è un lavoro solitario. E' un lavoro dove si necessita di rimanere focalizzati, di seguire e perseguire le proprie idee. Perché questo? Perché in ogni acquisto, in ogni vendita diciamo si riservano pianificazioni, si riservano aspettative, paure, certezze, insicurezze, perdite o guadagni passati. Cioè in ogni, come dire, situazione, ogni trader diciamo ha la sua storia. E inoltre ogni trader possiamo dire ha le sue conoscenze tecniche, ha le sue competenze, ha un suo capitale economico, non solo quello diciamo psicologico e emotivo, ma ha un capitale economico. Ognuno ha un suo capitale, ha una sua esperienza. Io per esempio faccio trading da ormai veramente tantissimi anni e magari un altro trader che fa trading da 3-4 anni sicuramente non può avere la stessa sensibilità e la stessa esperienza che ho io. Quindi è diverso. Ma è anche diverso per esempio il peso che noi possiamo dare a una somma di denaro rispetto a un'altra persona. Perché questo? Perché per me 100€ su quel trade possono essere tanti o pochi, possono essere tantissimo o pochissimo, per un altro trader possono essere completamente l'opposto. Quindi anche questo è una delle cose importanti che si va a puntare come dire il dito nel momento in cui cerchiamo di fare uguale a un'altra persona o copiarla o ascoltare anche solamente il giudizio o il commento di un'altra persona che fa trading. Abbiamo un carattere diverso oltre a tutte le cose che vi ho appena citato. Poi bisogna anche dire che può essere diverso per esempio l'orizzonte temporale nel quale si va a operare. Quindi diciamo che ogni commento, ogni giudizio va contestualizzato, va visto in quella determinata situazione, in quel determinato mercato, in quel determinato periodo. Cioè è tutto molto molto soggettivo. Quindi, prima cosa, ignoriamo i giudizi e i commenti degli altri, cerchiamo di studiare, di trovare il nostro metodo, di trovare il nostro vestito su misura, ma poi cercare di essere assolutamente focalizzati sul nostro e non giudicare o commentare e soprattutto non farsi, come dire, non far cambiare la propria via, la propria strada per un commento o un giudizio di altri. Ok? Cerchiamo di mantenere vivo, diciamo, il nostro focus, di mantenere viva la nostra concentrazione e il nostro essere unici, diciamo, nel mercato. Nessuno è come noi, quindi dobbiamo rispettare questa cosa. La seconda cosa su cui volevo oggi così darvi uno spunto è questo, ed è una cosa su cui, secondo me, moltissimi ci sono cascati, ed è il non cercare di recuperare possibili perdite passate. Ricordiamoci che le perdite nel trading non si recuperano, perché questo diventa un cane che si morde la coda. Si possono però fare nuove operazioni in profitto, questo è possibile. Il problema è che se noi andiamo a cercare di recuperare delle perdite, entriamo in quello che si può definire un circolo, diciamo, vizioso, prima ho detto un cane che si morde la coda, e quindi andare a fare azioni, comportamenti che possono essere assolutamente deleteri, come per esempio aumentare la size, aumentare la leva, entrare senza un vero motivo, affrettare anche i tempi, quindi invece di rallentare, affrettare, cercare di recuperare la perdita, ci mette in una condizione, diciamo, non favorevole e non efficace, no? dal punto di vista poi del risultato. Ricordiamoci, ogni trade è una storia a sé stante, ogni trade vive di vita propria, e quindi non cerchiamo di recuperare con un trade o con sbagliati trade delle perdite progress. Ogni operazione viene chiusa e poi dobbiamo essere, dobbiamo arrivare sui mercati con neutralità completa e ripartire con il nuovo trade. Ci sono state delle perdite? Benissimo, quelle sono state fatte, poi noi adesso dobbiamo entrare a mercato per fare nuovi profitti, per fare delle posizioni di qualità, posizioni che possono essere buone, che possono portare dei guadagni. Bene, detto anche questo, la terza, diciamo, la terza situazione che io su cui volevo un po', volevo commentare con voi, volevo darvi come pillola e come spunto su cui riflettere, ovviamente queste sono pillole che danno degli spunti su cui riflettere, su cui magari anche lavorare, è quello di non avere opinioni. Diciamo che il non avere opinioni è molto difficile, perché nel trading una persona si fa un'idea di quello che potrebbe essere un mercato. Però ricordiamoci, le nostre opinioni diventano spesso poi aspettative, e queste aspettative si riversano su quello che noi vogliamo vedere a mercato, quello che vogliamo vedere possa succedere sul mercato. Queste aspettative nel tempo diventano azioni, diventano appunto il nostro stile di trading, diventano il nostro modo di fare trading, e lo stile di trading, il tipo di approccio diciamo che si ha nel trading, poi diventa nel tempo il nostro destino. Quindi ricordiamoci di non farci prendere da qualche mese in profitto, qualche mese in perdita o qualche situazione di euforia o al contrario di paura. Noi dobbiamo cercare di non avere opinioni, e quindi quando si fa trading invece di prevedere, quindi di avere un'opinione sul mercato, di cercare di prevedere che cosa farà, che ripeto crea l'aspettativa che poi è devastante, perché l'aspettativa poi crea tristezza quando non viene confermata, o diventa euforia quando diventa invece confermata, ah guarda che bravo che sono stato, oh guarda che male che ho fatto lì, cioè l'aspettativa distrugge il trader. Noi dobbiamo cercare di lavorare senza aspettative, quindi invece di prevedere, cercare di pianificare, che è diverso attraverso il nostro metodo tecnico, cercare di andare poi a fare delle azioni che possano essere efficaci nel nostro trading. Appunto come dicevo prima, il nostro stile di trading, il nostro approccio che è dato inizialmente da quelle che io chiamo aspettative, perché partono dalle opinioni, dalle idee che noi abbiamo di quel mercato, appunto diventa il nostro gestino. Quindi potete ben capire che il nostro destino di trader è già scritto, se vogliamo, molto prima che noi facciamo l'azione di cliccare e di farci un trade. Molto prima, perché passa proprio da magari un'idea, da un'opinione, da un'aspettativa, e tutto quello che ho detto. Quindi l'unica cosa diciamo da fare è quella di osservare il prezzo e farsi guidare esclusivamente da lui, senza nessun filtro, senza nessuna cosa in più. Io dico sempre che noi lavoriamo con la price action naked, pulita, nuda, proprio di non farsi, come dire, assorbire da altre situazioni. Il prezzo già ci dice tutto. Ricordiamoci che le opinioni che noi abbiamo non ci faranno mai guadagnare nel trading. L'unica cosa che ci può fare è essere costanti nel trading, vuol dire, io ragazzi sono qui e sono moltissimi anni che faccio trading, lo faccio ancora nello stesso modo e sono ancora qui. Negli anni ho visto passare tantissime persone che pensavano di avere la bacchetta magica, di avere la sfera di cristallo, che poi però purtroppo sono finite in miseria. Quindi ricordiamo, non esiste una strategia di trading che va bene per tutti. Questo è ovviamente normale e anzi io l'ho sempre detta questa cosa. Esiste però un corretto approccio al mercato, un corretto modello, come dire, di mindset se vogliamo, nell'approcciare il mercato. Ecco, quello va bene per tutti. Al di là della strategia operativa, della tecnica in sé operativa che poi si utilizza. Bene, direi che ho concluso. Mi farebbe molto piacere un vostro commento qui sotto per capire cosa pensate di questo argomento, come la pensate voi. Io ovviamente sono queste tre situazioni, queste tre cose che vi ho citato arrivano da quasi vent'anni di mercati, di eseguiti, di trading, di conoscere anche altre persone, altri trader che fanno trading, di guadagni, di perditele, di momenti più buoni e di momenti meno buoni. Quindi queste tre cose le reputo molto importanti e le volevo lasciare qui. Bene, allora, visto che ho finito, vi chiedo ovviamente di lasciare un mi piace se il video vi è piaciuto. Se siete per la prima volta in questo canale, spero che qualcosa abbiate percepito perché sono concetti che al trader neofita possono sembrare addirittura inutili, invece sono molto importanti. Comunque, se questo video vi è piaciuto, appunto lasciate un like, mettete, cliccate la campanellina e se non siete iscritti a questo canale, iscrivetevi. Per il resto direi che ci vediamo al prossimo video, alle prossime trading room e alle prossime cose. Grazie a tutti, buon trading simple. Ciao.